Nel mese di ottobre la provincia di Sondrio ha registrato 1.210 offerte di lavoro con un aumento particolare nel settore dei servizi, specialmente nel turismo, che ha visto 780 contratti pianificati. Le piccole imprese, con meno di 49 dipendenti, sono la principale fonte di assunzioni, prevedendo 760 nuovi posti. Le grandi aziende, con oltre 250 dipendenti, offrono 230 posizioni, mentre le medie imprese prevedono 220 nuove assunzioni. In termini di istruzione, cresce la domanda di lavoratori con qualifiche professionali o diploma, che rappresentano il 40% delle richieste. Seguono i diplomati di scuola secondaria e quelli con formazione obbligatoria, entrambi al 26%. La richiesta di laureati è stabile all'8%. Le professioni più difficili da reperire riguardano i settori elettrico, benessere e edile. Inoltre, quasi il 70% delle aziende ha difficoltà a trovare diplomati nel turismo e non gastronomia e ospitalità. Sono le PMI sicuramente ad assumere di più, ma anche perché è il nostro tessuto interpretoriale, fatto soprattutto da micro e piccole imprese, rispetto alle grandi aziende che sono piuttosto stabili in questa richiesta. L'unico tema negativo è sempre questo mismatch che abbiamo tra domanda e offerta. Per quanto riguarda i contratti, c'è una leggera crescita dei contratti stabili, tempo indeterminato o apprendistato, che rappresentano il 24% del totale, mentre i contratti a termine rimangono prevalenti, coprendo il 76% delle offerte di lavoro.